Bug Butcher Avete presente Bug per Sega Saturn? Beh, non c'entra niente Ma bensì questo Bug Butcher è un clone di Pung A mio avviso un clone ufficiale potrebbe definirsi Non come quella cagata di Pung Adventure Per chi non lo sapesse, il Pung era un videogioco, un titolo arcade Creato sul finire degli anni 80-90 Il quale, le meccaniche, consistevano nello sparare delle palle che cadevano dal cielo Ogni colpo che subiva una palla, questa quasi splittava in due Perché le palle non scomparivano L'obiettivo del gioco era di livello dopo di livello ripulire i livelli da queste palle Bensì in Bug Butcher abbiamo la sostituzione delle palle con dei Bacarozzi E il personaggio principale viene sostituito da un disinfestatore di Bacarozzi Il gioco non c'è dire che ha un gameplay fluido, frenetico e divertente Appagante fin da subito, con una curva di apprendimento abbastanza ripita Che ricorda molto il pango originale Inoltre ci sono vari power up che rendono l'esperienza di gioco sempre divertente Quindi se siete appassionati del Pung originale O volete un gioco per giocare sul cesso ma che richieda anche delle skill Questo gioco, che per Android e Steam, fa al caso vostro Ve lo consiglio O volete un gioco per giocare sul cesso ma che richiede anche delle palle